Ciao ragazzi, vi faccio lo specchiettamento delle buste sorpresse di Tiger perché sapete che sono a Roma, magari faccio un mini-vlog poi più avanti e non mi andrei a fare l'aura perché le cose sono tante e le faccio perché non sono a casa mia invece ho preso le buste sorpresse che mi pare che contengono bella roba e le apriamo insieme cominciamo partiamo con la piccolina, ho preso un XL e una piccolina così la prima cosa che ho trovato è un quadernino, un di quelli che si ripiegano così molto carino questo costerà solo in 3 euro poi questi sono belli così le belle lo scrap le ricorse del scrapbook poi altre ricorse del scrapbook e una marina semplice la prima può andar bene partiamo con quelle XL io voglio prima cosa che ho trovato è carina molto carino una maschera col cane strana vabbè dai si può fare poi il plasma una polla colorata e infine un altro quadernino beh dai ragazzi diciamo che sono contento come l'avvocato pazzo diciamo che ci sta a parte questa qui che mi sembra un po una cavolata una maschera col cane per pazienza comunque mi piace mi piace si trovate una bella roba e le cose che si è piaciuto questo video mettete like iscrivetevi al canale e non ci vediamo questo sono io bella raga